Riqualificazione e valorizzazione degli spazi attraverso miglioramenti strutturali e soprattutto nuove e più variegate attività. L'assessorato alla cultura del comune di Filianincisa sta puntando per trasformare le biblioteche comunali in luoghi di aggregazione sociale e culturale e non solo di erogazione di servizi e postazioni studio per under 35 che al momento rappresenta la fascia d'età che le frequenta maggiormente per un totale di quasi 900 studenti iscritti ad Incisa e di quasi 2.400 affilline. Il tutto grazie ad un investimento di oltre 60.000 euro che serviranno a finanziare sia le loro attività a 2020 sia l'acquisto di nuovi materiali. A questa cifra si aggiunge poi il contributo di 22.000 euro ottenuto in seguito alla vittoria del bando Spazi Attivi della Fondazione CR Firenze per il progetto La Biblioteca che Vorrei che prevede migliorie strutturali e ampliamento delle attività. Alla Biblioteca di Filine sono già stati realizzati alcuni interventi, pavimentazione e ritinteggiatura pareti. Nelle prossime settimane arriveranno nuove arredi. Inoltre sono in fase di programmazione ulteriori lavori di valorizzazione degli spazi. Il percorso di investimento sulla biblioteca in particolare di Filine che stiamo facendo per renderla finalmente più aperta alla cittadinanza, anche più viva e vivace attraverso tante iniziative che all'interno si svolgono con una scelta anche diversa negli acquisti dei libri perché proprio abbiamo scelto di andare incontro alla necessità dell'utenza. Si vedono già i primi importanti risultati perché negli ultimi mesi sono aumentati in maniera molto significativa i prestiti. Sulla Biblioteca di Filine in particolare leggiamo sull'anno 2019 un aumento di più del quasi 30% dei prestiti liberali e delle iscrizioni presso la Biblioteca ma vediamo anche che tante persone hanno scelto di iscriversi alla Biblioteca per frequentare per esempio quelli che sono i momenti di socialità all'interno della Biblioteca, le presentazioni dei libri, anche quelle iniziative dedicate proprio ai bimbi e ai più piccoli. Lezioni di workshop, ad esempio in questo periodo stiamo parlando di naturopatia, abbiamo fatto delle lezioni di una colazione sana e quindi dei workshop proprio dedicati a altre materie e altri interessi, non solo delle mostre di artisti locali, a breve avremo una mostra per quanto riguarda una fumettista giovane del nostro territorio, abbiamo avuto la mostra delle opere in ferro di Arturo Badì. Per quanto riguarda appunto la possibilità di sapere quali sono le iniziative, basta andare a vedere quelle che sono gli eventi sui nostri siti, canali ufficiali del Comune di Figlina e Incisa a Valdarno, quindi sia Facebook, sia Whatsapp oppure agenda letteraria e ci sono riportate tutte quelle che sono le iniziative. Il piano operativo è lo strumento di pianificazione urbanistica che disciplina le regole d'uso del territorio e che attua gli indirizzi contenuti nel piano strutturale unico di Figlina e Incisa a Valdarno in vigore dalla scorsa estate. Il piano operativo è stato adottato con relativa pubblicazione sul Burt il 12 febbraio scorso. Per i 60 giorni successivi chiunque avrà la possibilità di presentare osservazioni al documento. Partano i 60 giorni che consentono a tutta la cittadinanza, chi vuole naturalmente, di poter esprimere le proprie osservazioni che dovranno prevenire entro il 12 di aprile. È un elemento importante perché è l'elemento per il quale noi si inizia a fare un percorso che in realtà non termina fra 60 giorni ma proseguirà anche per tutto l'anno e che consentirà alla fine di poter avere un unico strumento che riguarda l'intero Comune, mentre ora invece avevamo due strumenti, uno per quanto riguardava Figline e l'altro per Incisa e in qualche modo in questa maniera si arriva al compimento di un passaggio che per noi è un elemento fondamentale.